Il felice slogan di Anderson prendeva spunto dal centro aperto nel 2001 all'MIT di Boston, dal Neil Geschenfeld del Center Bits & Datals, che è stato un po' l'incubatore di questo movimento. Geschenfeld ha tenuto un lungo corso semestrale dal titolo promettente «How to make almost anything». Ma la sua grande intuizione è stata creare il primo Fab Lab, ovvero un luogo dove produrre qualsiasi cosa con strumenti a basso costo per favorire una prototipazione rapida. Dall'idea al prototipo deve trascorrere poco tempo e devono servire pochissimi soldi perché solo così si è incentivato a provarci e riprovarci. Solo così si produce vera innovazione.